ciao 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 grazie di essere qui da me facciamo un nuovo video di reaction degli smr su tiktok e questa volta ascolterò i video con un earpods e nell'altro mi ascolta invece qui quindi dovrei riuscire a calibrare bene l'audio inoltre l'altro di screen questa volta penso di avere messo le impostazioni giuste quindi dovrebbe sentirsi l'audio destra e sinistra ok quindi questo è il mio tiktok mi sono salvata un pochino di video sia di persone italiane e voglio solo dire che intanto se mi è sfuggito qualcuno insomma non ecco ho fatto un po' semplicemente ho fatto una ricerca e quelli ho trovato e poi soprattutto non prendete queste opinioni come un giudizio alla persona che fa il video io sto giudicando solo giudicandone anche stai reagendo solo guardate bene solo al video che guardo lo stesso identico video potrebbe essere fatto da mille persone diverse io reagirei solo al video non alla persona che lo sta facendo sia molto molto chiaro ci tengo tantissimo e è per questo anche che abito di solito di rispondere alle domande cosa ne pensi di cosa ne pensi di perché intanto cioè realmente ho paura che le persone poi magari uno prenda le mie parole in modo sbagliato o non lo so e poi in ogni caso cioè chi se ne frega di cosa penso io di quella persona perché io non ho il diritto di pensare cioè di giudicare nessuno io riesco a un contenuto non è la persona che lo fa allora vado un pochino a caso guardiamo guardiamo vabbè che fa un buon sonore io credo però mi non puoi capire perché è super stint ma bello bello non ho mai fatto un video del e che secondo me non mi verrebbe bene che tra l'altro non penso neanche lo piccichi il microfono ma sia solo stinti che sa cioè secondo me è carino qui ma su youtube non lo so ok va bene allora ciao ciao bellissima ciao bellissima ciao bellissima io ho un debole amperelle io ho un debole amperelle io ho un debole amperelle è inutile è stata con lei che ho provato i primi tingles di cui ho guardato i primi video quindi se ne metto poco ok e ammetto che io non la seguo più tanto perché video in spagnolo a me piace guardare video in italiano ma l'adoro e comunque sono super fan e ma sapevo che qui invece facesse anche insomma piccoli video in italiano quindi lei stupenda ciao bellezza mia certo che ti dà di un video e grazie forse veramente oggi per te oh white forse è un po' forte vabbè il concetto è questo bello bello ecco soggiullare questo non ha tantissimo è inutile forse è un po' forte il mic top vabbè questo ha un gusti ho visto che qui fanno molto il rispondere ai commenti proprio nell'smr mettitevi con video non lo so non è non è una cosa che io farei perché poi sicuramente ricevi molti più commenti della serie io te lo chiedo da un mese non lo fai preferisci altri già visto questo meccanismo mi annoierebbe subito quindi e aspettato di essere un po' 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 questo altro video ha 7,7 milioni ok light is coming in good can you look at me look straight ahead to me perfect good 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 can you look up for me good and can you look down good good perfect ok can you look straight ahead bello bello slide in a circle move my finger in a circle then come for you bello bello lei secondo me è molto brava di look at the circle ok ok una compilation ho natura 10 minuti scusate comunque già vedete già qui io non guarderei mai un video di 10 minuti lo guarderei su youtube però devo dire che ditemi solito un altro video in verticale perché comunque pelli in movement eccetera sono troppo più belli su noi è molto più effettivo ok nina come vedete c'è il brushing il brushing sul viso raga e su richiesta e su richiesta vi do la buona notte la professione mi incanto in varie anche l'audio del microfonino mi piace molto buona buona ti sentono molto le voci sottofondo che a me devo dire che qui non hanno fastidio ma in realtà se bassissime quasi mi rilassano perché mi mi sembra che sia ancora più realistico ecco però solano per tutti quindi non le metto mai già non ma poi qui sarebbe impossibile sarebbero fortissime le voci quindi però so il fatto che il brushing a me così è stupendo ok e io la seguo anche su youtube è sempre molto carino ok ah qui invece non è non è onesta a me però è comunque tenerissimo quindi volevo reggere un pochino anche questo qui c'è una musica ma non ve la faccio sentire questo è il mio video questo è il mio video e qui di oggi sarò sempre ok però non posso mettervi l'audio perché ed è dolcissimo e i commenti sotto questo video sono dolcissimi non lo so non lo trovo a piacere che sia rimasto così impresso comunque un certo video è sempre bello ok ok ne ho un po' come vedete ma neanche tanti anche perché come sapete state io già non faccio video costanti lunghi eccetera è un po' un video anche di intrattenimento per giocci e commentare insieme ok allora è un po' un po' un po' un po' un po' all'eprò basta tutti i composti che basta e l'idea gira a 700 mila cioè carino nulla di che però non è fatto neanche malissimo sicuramente da ascoltare senza cuffie infatti lo sto flessando un sacco focus on the tip of the light non questo è gucci just the tip just focus on the tip of the light just focus on the tip of the light on the tip of the light bellissimo focus on the tip of the light stupendo è in inglese ronato si può fare in inglese stupendo ok ok so stupendo 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 è in inglese ronato ok stupendo stupendo però mi piace tantissimo questo stile ditemi se conoscete questa luce così che può essere molto interessante andiamo avanti e questa volta vi faccio sentire una cosa che metterò a volume bassissimo un trend di ha praticamente il suono delle ampolline che si scontrano fra di loro io trovo estremamente fastidioso e non capisco come possa piacere non è che io stampo, non ne sono vecchie, non so cioè, no, non mi piace? ma vuoi piace? ditemelo, perché? cioè sicuramente è particolare ma non è piacevole anzi è più solo fastidioso che solo piacevole non capisco sappiamo, vabbè, è lui che in realtà questo è un estratto di un video di Youtube anche perché sarebbe un po' troppo elaborato per essere suddito insomma, vabbè, non ci prevede niente praticamente e non conoscevo molto bello questo video sempre ed è un un riassunto con i video di Youtube io volevo cominciare a caricare lì anche quelli però non lo so comunque non lo so mi sembra tutta forma adatta però sono troppo piccola, non lo saprei e il tuo pezzo ho fatto benissimo proprio massaggiare l'escalpio poi c'è quanta cura ma niente, è solo shout out to whispering gentleman perché la mia buona qualità ok allora passiamo a Anastasia Anastasia io la seguo su Youtube non l'avevo mai vista qui ma la ASMR lo seguo veramente poco qui è una bellissima voce ti aspetto in live è che questo video lo ascolterei letteralmente all'infinito perché anche lei la coreana ha fatto molto così quando si teme un sounds in mezzo ricorda il primo questo era il famoso speed painting fatto non è così devo dire che ci sta cioè comunque non mi va di provarlo anche perché l'intero video è così tipo comunque non so non mi fa schifo vedere lei farlo ma io non lo farei e seconda cosa non so se l'avete notato ma soprattutto in Italia adesso c'è questo continuo utilizzo e stra 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 utilizzo del don't click questo qui che alcune persone lo amano altre lo odiano e probabilmente anche per questo che alcune persone non riescono a supportarlo perché per quanto o non riescono a supportare questi video perché per quanto ti possa piacere magari l'SMR qui c'è proprio uno stile particolare e c'è questo uso spropositato del don't clicking che ti fa mettere in un campazzino anche me perché prima mi dava un sacco di prividi adesso è troppo usato e non mi dice niente e mi dispiace molto e trovo sia adesso estremamente sopravvalutato e banale cioè magari ci posso fare un video però a parte che sarebbe un video in cui cioè è un trigger e non un intercalare ammetto che lo uso molto invece lo uso anche la piattaforma viola meno degli altri comunque perché sicuramente quando fai delle live è molto comodo per riempire i silenzi però per dei video si può evitare secondo me non so dite mai cosa ne pensate a me dispiace che sia troppo utilizzato cioè il troppo stroppio non so cioè tutti lo fanno non so tutti 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 i video qui c'è sempre il don't clicking dopo un po' ok no non la conoscevo ci sa ci proviamo un po' Sabe lisa avete sentito anche in questo ultimo c'è il don clicking ma ti giocavo il peccato dopo l'unico video senza don clicking e invece no ragazzi c'era e carini vedete questa cosa di rispondere a un commento però personalmente non ce la farei faccio già troppi contenuti faccio già contenuti smr sempre e mi esaurerei a farli anche qui onestamente e non lo so la trovo una piattaforma ripeto come lo scorso video non così tanto adatta sicuramente se posso sicuramente ecco può essere una piattaforma buona per iniziare a farsi conoscere perché sicuramente si cresce molto di velocemente però dopo bisogna essere capaci a portare quelle persone su piattaforme in cui puoi avere in cui puoi avere un guadagno se vuoi renderlo il tuo lavoro ovviamente se mi piace fare i video così va bene perché perché i guadagni qui sono giustamente cioè è un fondo non ci sono pubblicità davanti sono molto 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 bassi e infatti è difficile vivereci e invece youtube ha raggiunto una certa soglia ti paga cioè e può diventare anche un lavoro e poi ci sono gli sponsor e tutto non lo so cioè secondo me può essere una buona piattaforma per cominciare però poi io credo molto di più cioè trovo che sono molto più adatti piattaforme come la piattaforma viola o youtube anyway guardiamo questo è tipo uno satisfying che è il migliore forse però ha 19 milioni di visualizzazioni non vi piace in questi video ovviamente sto bilanciando i suoni perché c'è questa cosa con le cuffie non è piacevole troppo forte però vabbè abbiamo capito l'SMR per me è più sul lato soddisfacente però io non sono l'inventrice la metoda l'SMR è una mia semplicissima opinione ok mattia figo bello ragazzi sono tutti striccati mi hai aiutato a trovarli sono bello attivo secondo me è carino mattia ciao mattia ok bellissimo questo è già molto più il mio stile lento lento molto forte andiamo forte questo spero sia un estratto da un video di youtube bellissimo perfetto 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 perché è molto elaborato anche tutta elaborato comunque c'è un lavoro dietro a tutti oddio tutti i suoni sovrapposti e vi dico cioè essendo che c'è lo su youtube vedo qui per me hanno più sensibili o meno cura ma tipo questo è stupendo però secondo me lo spettatore non ci dà comunque la giusta attenzione cioè lo scorre si scorza lo scorre invece per un video uno si ferma si mette le cuffie you know what I mean ok no don't click click grazie piccola Alice e spero di vederti nei video di youtube e cercare di portare giustamente le persone su youtube chissà perché si ripeto sto tongue clicking purtroppo mi è troppo utilizzato secondo me adesso faccio quasi fatica cioè spero di non a un certo punto a non raggiarlo più ciao a tutti benvenuti oggi è il turno delle monete medievale nella descrizione scritto andatevi a seguire su youtube perché raga cioè ci sta prelipite l'smr su ttok secondo me è comunque per intrattenere e non per rilassare non per rilassare il turno non è mia prese ma che rilassare ok e piuttosto me faceva anche lei sulla piattaforma ma non so se le faccio ancora ok e qui abbiamo lei che è molto famosa io avevo visto i suoi video su instagram ma li ricarica dappertutto anche questo cortesimo il ton clicking il sopra mi piace molto cioè ci fa dire che questo ton clicking in particolare con tipo così così mi piace molto anche se ho paura che sentendolo troppo mi scocci tipo quando ti metto il rossetto e fai ton clicking ci sta quando sei concentrato ci sta però il ton clicking sempre perché non sai cosa fare no ok poi questo è l'ho voluto inserire non è un btsmr è una parodia e l'andremo a commentare insieme ok premessa io comincio a cadere negli anni sono molto migliorata a reggere l'ironia scusate a sia a reggere l'ironia sui video smr secondo me c'è una linea molto sottile bisogna essere estremamente bravi fra fare ironia e farci un contenuto divertente o letteralmente ridere di offendere in giro e offendere e infatti far ridere con queste cose è veramente difficile bisogna essere veramente molto bravi e ad esempio tol smr me fa morire perché non può ne dimmere nessuno è una caricatura e far ridere bisogna essere bravi ripeto poi anni fa non avrei apprezzato probabilmente neanche quelli bravi perché è difficile cioè quando sei così quando già ricevi commenti tutti i giorni che denigrano ciò che fai che non capiscono che ridono che ti prendono in giro che ti dicono di andare che ti dicono di prendere quel farmaco perché sicuramente è difficile poi accettare l'ironia cioè ridere veramente di queste cose quindi già io sono per malosa ma su questo si detto questo guardiamo i video ASMR fanno realmente ricassare scopriamone bello guys oggi faremo un video ASMR e parlerò con questa voce fastidiosissima anche a me la tua voce l'ha fastidio quindi hai ragione hai ragione e la cosa che mi ha fatto fastidio nel primo cosa e forse non l'ho fatta in posto fra lì tutti fanno così vabbè è una parodia vedete faccio molto fatica ci provo e però questo cosa un po' miccante non è da tutti ok andiamo al chino per farti rilassare e nel frattempo che parlerò con questa voce fastidiosa farò anche dei rumori del tipo dei rumori fastidiosi ok e qui niente raga qui c'è un nano con me e tipo una lamentera però ha ragione cioè effettivamente mi sono accorta che i tonicchi li usano tutti e poi non sono che dar realmente fastidio quindi ci sta che ti dia fastidio hai quasi ti ho ragione lo so certo non voglio rilattarmi un po' rito ancora secondo me è molto fastidioso guarda ascolta mentre stai prendendo sonno qualcuno entrerà nella stanza che ti aiuterà a farti rilassare di più adesso che sei completamente rilassato ti lascio al tuo sonno e soprattutto ricordati che i video ASMR fanno cagare dicimi la vostra fa ridere anche perché io non sono oggettiva quindi mille mia vostra non è il peggiore la cosa che io odio di più cioè la cosa come più rispettosa a tutti quello che odio di più e vabbè questa è un'imitazione vabbè però quelli che tipo per fare più dicono facciamo un video ASMR e poi appena vanno ciao sono lì e cominciano a ridere ma tu lo sai che parla la vostra voce probabilmente tutti i giorni non te ne accorgi di una cosa che fai tranquillamente boh mi do troppo fastidio quelli proprio non li sopporto tutti anche quelle delle serebritiche che all'altro punto si mettono a ridere vabbè ho capito va bene stai parlando a bassa voce wow che ridere oddio niente questi mi danno super fastidio però questi giacomici ne leggo un pochino di più e da un certo punto di vista c'è anche ragione ok lei è la regina del fast molto più fast fast un pochino un pochino un pochino un pochino un pochino can you hear me better now there's also something else on your other ear so let me get that out just sit still don't move i'm gonna get the other thing out of the other ear just sit still and oh my goodness it looks like we had a pokemon card in the other ear 3,2,1 enfocate aqui mira como se acerca y se aleja enfocate, enfocate aqui mira como se acerca y se aleja y ahora el otro mira y se separa se junta 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 y mira como se acerca y se aleja enfocate aqui y no voy a invertir ahora enfocate aqui en medio enfocate en los circulos que te van a ayudar a dormir te van a ayudar a dormir muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien enfocate aquí ok muy bien aquí ok ecco ho preso questo video perchè secondo me son quelli invece quelli da fare su questa piattaforma quindi di smr tipo molto casuali sentiteli a me rilassano molto perchè per quanto fatti a caso ci stanno cioè ci stanno non lo so ok ecco 22 che cosa ok questo per me non è smr è mangiare cose e anche buh quindi ce vi faccio vedere solo una cosa piccola ma cioè non chiamatelo smr che no io dopo la gente pensa che smr sia solo mangiare giustamente vede questi video vede solo questi video tra l'altro tra l'altro le melanzai non si mangiano crude proprio uno di pochi frutti che non si mangia crude ma sono restito da due secondi perchè mi da dopo il nervoso ok rifacciamo Mary Jane perchè l'altra volta mi avete detto su è chiaro hai preso questo suo video ma vada ripeto io guardo i video non la persona detta come l'ha detta non non conosco le persone cioè posso avere le viste sui video ma non le conosco cioè anche anche come potrei anche volendo dedicarle tranquilli cioè tranquilli non sto insultando nessuno grazie tesoro grazie tic 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 grazie 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 cioè è molto carino però questo ton clicking la faccio cioè vi giuro proprio troppo mi viene dato un po' troppo e non dispiace cioè proprio per me non dispiaceva perchè mi sta quasi rovinando un video che mi piaceva tantissimo pace e lei comunque va tipo live tutti i giorni non so se qui la sua piattaforma viola tipo tutte le sere per un sacco di ore fa un botto di video e c'è da dire che è una maga del blue beauty perchè fatti sono i copri di che è sicuramente più avanti di me un po' più moderne che sono un po' più arretrata ok però ecco non che il ton clicking non mi piace più non mi dice più niente non mi rispetto assolutamente nulla cioè per me adesso non si fa se non sai letteralmente cosa fare quindi mi da questa sensazione capite? mi aspettatevi per due settimane un video dedicato a un clicking no sto scherzando ma neanche tanto però se lo faccio lo faccio dedicato non a caso ok basta qui c'è l'emory challenge cosa ho fatto stendo? ah ho visto cibi che era fatta su youtube molto complicata non 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 quindi è meglio con una broccia ah la broccia sta mangiata no sta bene però un pochino no 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 on no i suoi capelli bellissimo ah e poi l'ultimo questo che vuole fare troppo Konami non ti ricordo? si, che trovezza ok, questo è diventato lunghissimo non volevo che durasse un quarto d'ora e ho misurato 40 minuti e vabbè lo so c'è un video reaction non è il solito video insomma con cui magari andate a dormire però può essere un video un po' di carino anche per intrattenersi è diverso quindi vi ringrazio di aver guardato questo video di essere stati qui con me oggi e io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio e augurare 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 buona 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 sonidora good night sweet buona 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 bu è perfetto